Castelli, dottorissa Francesca, psicologa, psicoterapeuta, ad Appiano Gentile, Elissone. L'udito audio-roso. Da sempre diamo ascolto a chi vuol sentire. Siamo a Lecco, Morbegno, Sondrio, Isolaccia, Tirano, Bormio e Delebio. Lo studio dentistico del dottor Faggi da oltre 30 anni cura la salute del vostro sorriso. A Lecco e a Civate. Quando è il momento di farsi sostenere e anche per le tue necessità impreviste, hai roll di emozionlus. La tranquillità di una risposta immediata. 0341 49 71 72 Ben trovati ad uno dei nostri spazi tradizionali dedicati agli esperti dell'udito audio-roso. Oggi in particolare sono con Mario Tosciri. Grazie Mario per l'ospitalità. Grazie a voi, benvenuti. E ci troviamo in una nuova sede, quella di Tirano. Esatto. Questa sede è stata aperta da pochi mesi. È stata fatta specificatamente per ampliare quello che è il servizio. Perché nella nostra attività è importante il servizio, dato che la maggior parte delle persone che hanno bisogno della nostra consulenza sono persone anziane. Quindi la vicinanza nei paesi è essenziale. E di conseguenza stiamo cercando di coprire in maniera capillare quello che è tutto il territorio valtelinese che è molto ampio e dispersivo. So infatti che tenete molto a questo discorso della territorialità per dare la possibilità alle persone che spesso sono anche persone anziane di avere dei posti proprio vicini alle proprie abitazioni. Certo, anche perché la difficoltà anche degli spostamenti è una difficoltà reale proprio data la tipologia del territorio. E quindi avere varie filiali dislocate nella zona valtelinese dà un grosso aiuto e una grossa mano per chi si vuole recare per avere delle assistenze per anche fare delle prime prove, delle prime visite e quindi avvicinarsi a quello che è la tipologia di questa situazione. In particolare in questa sede di Tirano quali attività svolgete? Allora, nella sede qui di Tirano svolciamo un'attività completa dove noi possiamo fare visite audiometriche, possiamo fare sia tutto quello che riguarda l'assistenza al cliente oltre che l'assistenza sugli apparecchi acustici per quanto riguarda i nostri clienti dislocati in valle. Sappiamo tra l'altro che avete anche una possibilità in più per le persone quella di utilizzare anche dei mezzi che proprio si recano nei vari paesi. Sì, noi abbiamo iniziato proprio in questi giorni, abbiamo un mezzo che si sposta e che va nei vari paesi per portare l'informazione che è molto essenziale. Quindi è anche un discorso di prevenzione? Sì, è un discorso di prevenzione perché la cosa più importante è la prevenzione in assoluto perché purtroppo quando si arriva in situazioni estreme rimane difficile anche per noi che siamo nel campo riuscire a risolvere delle problematiche che sono veramente gravi. Quindi è importante intervenire subito dopo i primi campanelli d'allaro? Esatto, è importante intervenire quando si comincia ad accorgersi di avere delle problematiche. Quindi Mario, chi avesse bisogno di recarsi da voi come può fare? Allora, chi si vuole recare in questa sede per avere qualsiasi tipo di informazione e di aiuto può recarsi a Tirano, quindi in Piazza Marinoni. Noi siamo all'interno della Galleria Perego. Grazie per l'ospitalità e noi ci ritroveremo nelle prossime settimane per approfondire alcuni argomenti importanti. Salute e benessere ancora con la nostra psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Francesca Castelli. Ciao Francesca. Ciao Katia, buonasera. Io credo che ogni essere umano, e su questo c'è una perfetta sintonia tra noi, debba onorare la vita, debba onorare se stesso, la propria dignità, il desiderio appunto di sentire il bene, di creare il bene, di stare bene. Purtroppo però la vita è molto accidentata e per tutta una serie di motivi si creano anche delle condizioni, oppure andiamo a cercare delle condizioni di malessere. Questo se si è adulti si può affrontare, magari in modo un po' più semplice, facendosi anche aiutare in un percorso di rinascita. Se si è invece piccolini, se si è poco più che bambini, adolescenti, forse è un po' più difficile. L'attualità, la cronaca, ci riporta ai noi episodi che magari di primo occhito ci fanno indignare, ma che meritano io credo un'analisi un po' più profonda. Mi riferisco in particolar modo all'utilizzo dei social, all'utilizzo delle nuove tecnologie che portano spesso e volentieri a far cadere anche quelle barriere così di pudicizia, piuttosto che di rispetto verso se stessi. Ci si fotografa, magari in abbigliamento intimo, e si diffondono queste immagini. È un tema denso, impegnativo, però è un tema dei nostri giorni. Tu cosa ci vedi dietro questa tendenza? Sì, anche questo è un tema proprio denso e ciascuna persona che fa questo sta dicendo qualcosa di sé in quel particolare momento della vita. Credo che la prima cosa da fare sia togliere ogni forma di giudizio. E quindi è un messaggio, una comunicazione. Quindi le reazioni forti, no? Hai detto magari la prima reazione può essere quella di mi indigno. È una questione di chi riceve il messaggio, di chi vede, di chi sa, di chi commenta, perché che sia coinvolto direttamente, che lo lega sul giornale, piuttosto che... Una cosa importantissima è togliere il giudizio. Se sento che mi arriva l'indignazione, stop, sto già parlando di me. Non sto più parlando di quella ragazzino, ragazzina, di quella situazione che posso conoscere direttamente o magari attraverso un articolo di giornale. Questo già è una cosa enorme. La nostra società è una società altamente giudicante. Tutti bravi a, come dire, mettere di sentenze. Moralista anche. Assolutamente, stop. Dietro una ragazzina, un ragazzino che si fotografa in abbigliamento intimo di fondo sui social, c'è una vita che sta parlando. E se si ha l'umiltà, il coraggio e la delicatezza di mettersi in ascolto di quello che questa cosa suscita dentro di sé per poter accedere alla realtà emozionale dell'altro, si possono tirare fuori e ribaltare delle situazioni e creare veramente delle autentiche magie partendo da questa situazione. Andiamo a vedere la vita che parla lì dietro. Che cosa c'è lì dietro? Ma in termini di vita, non in termini di problemi. Tutti bravi a parlare in termini di problemi, a giudicare la famiglia, la società, i social, le congiunzioni astrali. Siamo tutti bravi. Ok, va bene. Mi era capitato di affrontare una situazione simile e i genitori di questa ragazzina mi erano venuti a parlare tra il disperato e l'arrabbiato. Ci sono poi tantissime emozioni, tantissimi sentimenti, c'era paura, c'era rabbia, c'era vergogna, c'era... Ma è un'attenzione estrema a che cosa sta dicendo, che cosa sta facendo nostra figlia, perché ha bisogno di fare questo, se sta male perché non ci parla. Stop. Se sta male perché non ci parla, chiediamoci se sono veramente nelle condizioni di permettere all'altro di accedere a me. E quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di... Togliamo i giudizi di chi sta vedendo la situazione. È un tema assolutamente delicato, perché oggi la sessualità ancora non è libera. Nel senso che una sessualità libera presuppone un amore libero, ma fino a quando non impariamo ad amarci tutti un po' di più, di conseguenza la sessualità riflette il livello di amore che ciascuno ha raggiunto. Quindi il nostro livello vibrazionale come esseri, visto che l'amore è l'energia di cui vibra l'universo, possiamo dire che esprimiamo amore in tutti i gesti e in tutte le cose che facciamo, passa proprio dappertutto. Quindi il modo di vivere la sessualità, la propria intimità, riflette il livello di amore che abbiamo raggiunto, prima di tutto per noi stessi e di conseguenza per la vita. Quindi io direi che una foto di questo tipo parla di vita, innanzitutto. Parla di intimità. Ma spesso viene portata in maniera anche un po' maldestra, senza le dovute attenzioni, senza le dovute accortezze. Assolutamente sì, un desiderio profondo di vita e di profondità, di intimità con la vita, di intimità con noi stessi, in un gesto di questo tipo. Allora diventa tutta un'altra storia. Le cose vere, sono le cose più vere, derivano dalla profondità. Ok? E può essere molto profondo un caffè, molto profonda una foto, molto profondo un approccio intimo, come le stesse tre cose possono essere molto superficiali. Impariamo a non giudicare la cosa, ma ad ascoltare il livello di vibrazione che c'è. Quindi in una foto del genere ci può essere un desiderio di essere riconosciuti, qualche difficoltà con la propria autostima. Sì, ma ci può anche essere, vediamo, quel coraggio di farsi vedere, forse non è la maniera migliore, una voglia di entrare in contatto profondo con qualcuno. Allora possiamo prendere questo e andare, come dire, a trasformare, a vedere se si può fare in un modo che sia più bello, per certi aspetti anche più sano, che sia più delicato e rispettoso, prima di tutto, della propria persona, del proprio essere. E quando parlo di persone di essere mi riferisco a quell'entità complessa e magnifica che siamo, una parte spirituale, una parte emotiva, mentale e una parte fisica. E il corpo è il tempio dell'anima. E quindi è importante, secondo me, imparare a dare al proprio corpo anche il giusto tempo e il giusto spazio. Quindi non è semplicemente un discorso che non è morale, che è brutto, che chissà quali pensieri ci sono dietro. Cioè vita, un desiderio di vita, un desiderio anche di condividere la vita e di condividere qualcosa di proprio molto personale e di molto intimo. Questo è bello. Impariamo a farlo nella modalità migliore, quindi con i giusti modi, con i giusti tempi, con i giusti spazi, con le persone giuste con cui veramente abbiamo voglia di condividere qualcosa di molto profondo e di molto prezioso. Già, in qualche misura hai risposto alla domanda che ti pongo ora, però voglio tornare su questo aspetto. Il tuo consiglio ad un genitore, ad una coppia di genitori che si trovano appunto alle prese con una situazione di questo tipo. Allora, anzitutto non entrare nella dinamica del giudizio morale, ma probabilmente proprio mettersi in sintonia con il proprio figlio per capire, per entrare in profondità. Assolutamente sì. E per fare questo devo mettere in sintonia con me. Non posso mettermi in sintonia con un'altra persona se non sono in sintonia con me. Ma se sei tuo figlio. Assolutamente. Ah sì, assolutamente. Anzi, a maggior ragione. Più il rapporto è vicino, più per entrare in sintonia devo mettermi in sintonia con me, perché è un figlio, un amore, qualcosa di molto profondo. Ci tocca delle corde profonde, profonde, che magari abbiamo lasciato lì, che non abbiamo mai tanto ascoltato. E allora queste situazioni sono prima di tutto occasioni di crescita per chi ha voglia di aiutare. Non possiamo aiutare qualcun altro, nessuno, se su quell'aspetto lì che ci viene presentato non abbiamo il coraggio di guardarci dentro prima noi. Perché è un aiuto superficiale quello che diamo. E mi permetto di dire che qui a volte gli adulti si difendono molto. Sì, ma lui, lei sta male. Ma lui è lei dei problemi. Prima di tutto lui. Oh, funziona. L'aiuto che io sto fornendo, anche se arriva da buone intenzioni, è comunque parziale e non è proprio vero fino in fondo. Perché lì c'è una difesa ed è proprio su quella barriera lì che metto, invece dove c'è la chiave. Quindi il coraggio di andare a vedere in questo caso il proprio rapporto con la sessualità, con l'intimità, con l'immagine anche della sessualità. Cosa stimola me? Cosa... E vedere quanti magari... Tabù è anche ora di lasciare andare. Quanti schemi, quanti giudizi. Perché lasciandoli andare si può cogliere una profondità che sennò viene messa lì e a volte questi gesti un po' eclatanti cercano di andare a prendere questa profondità come rompendo dei muri. Chiaro che ci si fa male quando si rompe qualcosa, quando si forza, no? Perché sono delle forzature anche questi gesti. Però ricordiamoci sempre che quando qualcuno forza è perché magari sente che lì bisogna aprire dei varchi. Allora, il coraggio di guardarsi dentro e di andare a vedere il proprio rapporto con quello che quella situazione suscita ed è sempre assolutamente personale può favorire un dialogo vero e autentico e lo scioglimento. Prima accennava quella situazione che mi era capitata. Questo ha permesso un dialogo aperto in famiglia ma su tutto, non solo su quella cosa. Quello era come dire era questa ragazzina che stava dicendo aveva voglia di essere ascoltata su tutto, su tantissime altre cose. Aveva voglia di incontrare quelle persone che in questa vita sono i suoi genitori ma sono persone. Il coraggio di guardare le persone vicino a noi come persone prima che come ruolo ce le fa incontrare. E anche quello di incontrare noi stessi come persone, come esseri. Quindi è una grande occasione per andare a incontrare prima di tutto il nostro essere e poi l'essere che sta dentro l'altro corpo. Bellissimo. Impariamo ad incontrare le persone a prescindere dal loro ruolo. Mi pare perfetto. Francesca, prossima settimana io ti lancio questa sfida. parliamo degli uomini non che odiano le donne perché davvero ormai abbiamo raggiunto il livello di bombardamento della cronaca che fa stare male. Parliamo invece di uomini che amano le donne. Ma che bello. Allora ci vediamo la prossima settimana. grazie. Buonasera. Siamo tornati nello studio dentistico del dottor Giuseppe Faggi grazie anche oggi per l'ospitalità dottore. Grazie a voi bentornati. Parliamo oggi di un tema complesso quello dell'implantologia. Dottore vuole innanzitutto dare ai nostri telespettatori qualche informazione di che cosa si tratta. Cosa si intende per implantologia? si intende la sostituzione dei denti naturali mancanti per vari motivi o fratture o granulomi estrazione per granulomi e altri motivi e vengono sostituiti mettendo dei perni nell'osso. Oggi gli operatori si sono evoluti enormemente facendo dei protocolli sempre più affidabili e anche le stesse aziende che li producono hanno continuato ad affinarli e siamo arrivati ormai a un'ottima un ottimo risultato. Quindi dottore un settore in continua evoluzione? Sì oggi anche il livello degli operatori è salzato notevolmente di livello cosa che invece una volta era pannaggio di pochi e oggi abbiamo una grande scelta di operatori molto bravi in queste metodiche. Dottore quando si giunge nel suo studio quindi qual è la procedura? Si procede per fasi? Abbiamo due tipologie di impianto allora l'impianto semplice dopo un'indagine radiografica possiamo procedere alla seconda fase che è lo studio diagnostico di dove devono essere emersi gli impianti e dove vengono posizionati tante volte facciamo una dimma con l'odontotenico per vedere come verrà anche la protesi e quindi c'è uno studio proprio dal medico e eventualmente il laboratorio per vedere esattamente dove vengono posizionati chiaramente questo tenendo sempre conto della quantità d'osso che abbiamo come vengono inseriti questi impianti con un bisturi si scollano due lembi due lembi gengivali si allargano e praticamente si espone l'osso nudo e crudo quindi una volta esposto l'osso si inseriscono questi impianti con delle apposite frese viene messa una vite tappo e poi vengono rinchiusi questi due lembi e l'impianto rimane sepolto una volta guarito e tolto i punti rimane sepolto per un periodo che va dai due ai sei mesi a seconda di come l'operatore ha valutato la caratteristica e la tipologia dell'osso una volta passati dai due sei mesi a seconda di come abbiamo deciso l'impianto viene riaperto con una seconda fase con un piccolo interventino chirurgico molto semplice che si fa una piccolissima incisione minimale e viene messa una vite di guarigione con due punti che poi vengono tornati poi dopo una settimana 10-15 giorni che la gengiva è guarita viene messo un moncone viene tolta la vite tappo viene messo un moncone un moncone già preformato dalle ditte costruttrici e su questo moncone il tecnico costruirà poi dopo chiaramente aver rilevato l'impronte da parte del medico il tecnico costruirà delle corone in ceramica o in disilicato o in ceramica cotta su zirconio la percentuale di insuccessi è bassa di solito il 2% di insuccessi cosa che ha elevato enormemente questa capacità di successo una volta infatti gli successi erano molto inferiori e poi soprattutto oltre i 5 anni erano abbastanza bassi oggi invece possiamo vedere impianti che durano dei 10 ai 20 anni noi nel nostro studio non per vantarci ma abbiamo forse probabilmente abbiamo degli operatori bravi viene praticamente abbassata notevolmente anche sotto questo 2% chi può ricorrere all'implantologia di questo tipo? l'implantologia semplice di questo tipo possono ricorrere ormai tutti a qualsiasi età allora l'importante è che non ci siano gravi patologie cardiache perché quelle lieve si riescono sicuramente a risolvere che non abbiano diabetti scompensati oppure altre malattie croniche degenerative importanti in più non devono essere fumatori all'eccesso perché abbiamo visto che il fungo purtroppo incide enormemente soprattutto sulla fase un po' più avanzata della rigenerazione perché andando a toccare il microcircolo comunque c'è una nutrizione dei tessuti molto ridotta quelli che assumono i bifosfonati abbiamo visto che chi assume questi farmaci purtroppo può portare facendo degli impianti ma anche delle semplici estrazioni a delle necrosi ossi quindi bisogna stare molto attenti a chi assume questi bifosfonati dottore come avevamo accennato all'inizio nella prossima puntata ci soffermeremo invece sull'implantologia complessa quindi per ora la ringrazio dell'ospitalità grazie a voi che siete venuti ci vediamo alla prossima puntata Gli istituti riuniti Eroldi e Muzzi offrono un servizio estremamente importante il centro di urno e noi siamo con Monica Bonifacino coordinatrice del centro e con Chiara Empironi educatrice cos'è il centro di urno come funziona? Il centro di urno accoglie un massimo di 15 ospiti attraverso una domanda posta al settore accoglienza e secondo necessità quindi dei familiari a casa accoglie ospiti con disturbi del comportamento o no con demenza e con diverse patologie quindi abbiamo la presenza dell'infermiera la presenza del medico ovviamente degli operatori socioassistenziali e di educatori le attività durante la giornata partono dal mattino alle 8 fino al momento della chiusura che sono le 17.30 e l'accesso può essere da parte dei familiari che accompagna il proprio caro oppure attraverso il servizio degli autisti che a orari definiti e concordati fanno accedere insomma ai nostri ospiti al centro Chiara che tipo di attività vengono proposte? Le attività sono di tipo di stimolazione cognitiva quindi esercizi per la memoria esercizi cognitivi attività anche ludiche quindi la riscoperta di ciò che erano i giochi di una volta i giochi di adesso quindi è un'occasione per socializzare vengono particolari studiate anche attività individuali per continuare a coltivare quelli che sono gli interessi le capacità del singolo in base anche alla storia di vita dell'utente e oltretutto possiamo usufruire del parco che è un'immensa risorsa per gli istituti per passeggiate conversazioni e incontri ogni persona ciascuna persona anche se con abilità ridotte o ridottissime ha il diritto a continuare ad essere considerato appunto una persona a pieno esatto infatti uno degli obiettivi del centro come comunque di tutte le strutture dell'istituto è quello di mantenere attive il più possibile e valorizzare il più possibile le attività e le abilità residue della persona quindi il centro è comunque la persona ciò che è ancora in grado di fare e ciò che è ancora in grado di dare sicuramente questo presuppone anche una capacità professionale ma credo anche una sensibilità che deve essere parte imprescindibile quando persone come voi scelgono di svolgere questo tipo di professione lo sentite assolutamente sì sia professionalità che passione per quello che facciamo e tutto il personale è formato e in continua formazione per svolgere al meglio questa professione ovviamente l'attenzione è rivolta anche alle famiglie sicuramente sì ci sono comunque dei colloqui frequenti con i familiari sicuramente prima dell'ingresso all'ingresso e siamo sempre a disposizione comunque per qualsiasi dubbio soprattutto nel caso del centro diurno se hanno difficoltà nella gestione a casa perché comunque da noi rimangono dalle 8 alle 17 30 poi comunque i problemi e le preoccupazioni si riportano a casa in ogni caso quindi noi comunque ci siamo per qualsiasi aiuto per qualsiasi supporto altrettanto importante non è solo stimolare l'abilità cognitiva della persona che frequenta il centro ma anche proprio la parte motoria dunque penso che vi siano anche attività di questo tipo assolutamente c'è la figura del fisioterapista presente in equip del centro diurno i trattamenti sono quotidiani di tipo individuale e anche di piccolo gruppo o grande gruppo quindi ginnastica di gruppo con la possibilità di usufruire della palestra interna agli istituti ci troviamo con la dottoressa Locatelli responsabile qualità presso gli istituti riuniti ai roldi e muzzi parliamo di qualità ma d'altro canto in tutti questi incontri che abbiamo realizzato proprio qui presso la sede degli istituti il tema della qualità è emerso attraverso tante sfaccettature uno di questi aspetti riguarda un percorso di certificazione che gli istituti la struttura ha intrapreso di cosa si tratta? Allora abbiamo deciso appunto di portare avanti quello che è il tema della certificazione in qualità quindi una rispondenza a quella che è la normativa ISO 9001 2015 e anche per la sicurezza la OSAS 18001 2007 diciamo che l'intento è quello di portare avanti un miglioramento continuo di quelli che sono i nostri processi dal punto di vista assistenziale e sanitario relazionandoci anche su tutto quello che è il tema del rischio quindi un'attenzione particolare anche alla gestione di quelle che sono le criticità che si possono incontrare durante l'assistenza e anche rispetto al vissuto degli operatori criticità perché abbiamo ormai sottolineato a più riprese che presso gli istituti vengono fornite prestazioni ad alta complessità anche proprio clinica e dunque sempre di più è fondamentale eliminare quell'area di rischio che è insita in tutte le attività esatto proprio nell'ottica di ridurre il più possibile quelle che possono essere le problematiche legate alla gestione quindi nell'ottica del miglioramento sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista della gestione della cura e dell'assistenza dell'ospite quindi un'attenzione anche proprio a quella che è l'operatività dal punto di vista dell'operatore aumentando quelle che sono le professionalità che abbiamo quindi le grandi competenze che diciamo abbiamo la fortuna di avere all'interno degli istituti e migliorare sempre di più tutto ciò che riguarda la cura e l'assistenza dell'ospite questo credo a tutela sia dell'ospite sia dell'operatore ma anche dell'operatore esattamente ecco da qui la scelta di integrare quindi un sistema di gestione sia sui processi quindi qualità ISO 9001 ma anche sulla sicurezza quindi la 18.001 porta avanti tutto quello che è il tema della sicurezza sul luogo di lavoro quindi salute e sicurezza e si integra con la qualità del processo nei confronti dell'ospite i tempi di questo percorso? Allora i tempi sono molto brevi diciamo che siamo vicini alla certificazione avremo appunto un primo step nel mese di novembre dopodiché la certificazione verrà acquisita intorno a febbraio 2018 è tornata a trovarci la dottoressa Daniela Limonta la nostra dietologa ben ritrovata Daniela ciao Giulia bentornati telespettatori ormai una presenza fissa nelle nostre puntate per darci ogni volta utili consigli per la nostra alimentazione in particolare questa volta per l'alimentazione dei bambini parliamo infatti di un problema diffuso l'obesità in età infantile esatto sia questa puntata che nella prossima affronteremo un argomento che a me sta particolarmente a cuore sia come medico dietologo ma anche come mamma di tre bambini parleremo infatti di eccesso ponderale nell'infanzia parleremo di bambini obesi bambini sovrappeso nel complesso bambini che pesano troppo secondo un'indagine dell'istituto superiore di sanità in prima elementare quindi tra i 6-7 anni un bambino su tre è in eccesso ponderale questo è un problema molto serio perché se non si interviene precocemente questi bambini hanno più del 50% di diventare degli adulti obesi addirittura se poi questo sovrappeso viene mantenuto in età adolescenziale la probabilità sale al 60-70% io sono recentemente tornata dagli Stati Uniti dove ho proprio fatto un corso sulla prevenzione nell'obesità infantile e ho visto come negli Stati Uniti è iniziata una vera e propria campagna di sensibilizzazione nei confronti di questo problema spesso negli ospedali ma non solo nelle cliniche pediatriche ma negli ambulatori proprio dei medici generali ci sono queste pubblicità che fanno vedere pubblicità progresso di porre attenzione al sovrappeso nei bambini vedete nell'immagine questo peluche dalle forme molto rotonde con scritto attenzione se vostro figlio è in sovrappeso dovete aiutarlo perché se no il 70% di diventare un adulto sovrappeso abeso con tutte le conseguenze sia a livello economico sociale ma anche a livello di salute un adulto obeso ha un livello di salute più basso peggiore rispetto all'adulto normo peso in Italia è stato fatto a partire da 2010 un'indagine conoscitiva sui bambini delle elementari che ha considerato un campione di più di 40.000 bambini secondo questo programma che si chiamava Occhio alla salute ben il 23% dei bambini intervistati era in sovrappeso e l'11% era francamente obeso quindi sono dati italiani ma sono davvero simili a quelli americani quando noi parliamo degli Stati Uniti parliamo di uno stato della diseducazione alimentare sappiamo che ci sono molti più adulti obesi sì è vero sugli adulti la prevalenza di obesità è molto più alta negli Stati Uniti ma sui bambini i tassi di prevalenza sono davvero simili tra gli Stati Uniti e l'Italia la cosa peggiore in Italia sta sicuramente nelle regioni del sud dove la prevalenza è molto alta ma anche in Lombardia migliaia sono i bambini francamente sovrappeso e obesi il dato più preoccupante riguarda però le mamme spesso le mamme quasi il 36% delle mamme dei bambini obesi non considera tale suo figlio ovvero non vede il problema e questo lo vedo tranquillamente nei miei studi quando i genitori mi portano un bambino chiaramente obeso spesso sento i genitori trovare delle scusanti no ma mio figlio non è obeso mio figlio è robusto ha la struttura robusta del nonno del papà ha le ossa grosse di fronte a un bambino di terza elementare che pesa 60 kg non c'entra niente la struttura fisica robusta le ossa grosse siamo di fronte ad un problema medico ad un'obesità e a questo problema dobbiamo intervenire in ogni modo ovvio con questo non voglio dire che avere un bambino obeso è colpa necessariamente dei genitori obesi ovvio avere due genitori entrambi obesi favorisce l'obesità nei bambini ma ci sono anche bambini sovrappesi obesi che vengono da genitori magri quindi questi dati allarmanti spesso derivano da una sottovalutazione proprio anche della famiglia certo che magari non riesce a capire quali sono le cause l'organizzazione mondiale della sanità ha individuato nel mondo qualcosa come 41 milioni di bambini in eccesso ponderale di questi più della metà 22 milioni sono francamente obesi l'organizzazione mondiale della sanità ha studiando tutte le abitudini di vita dei bambini trovato due cause una l'eccessivo ricorso alle bevande le zuccherate e a seconda l'eccessivo ricorso al junk food al cibo spazzatura ha definito il nostro mondo come un mondo obesogenico ovvero un mondo che favorisce l'aumento di peso viviamo in una società sempre più sedentaria con un grande ricorso al cibo e con questi cibi che diventano sempre più grandi sempre ipercalorici quindi questo mondo il mondo occidentale obesogenico favorisce l'aumento di peso nei bambini ma adesso torniamo a quello studio all'occhio della salute fatto dall'istituto superiore di sanità in Italia non abbiamo solo due cause come le bibite zuccherate il cibo spazzatura ma abbiamo anche altre cause tra cui appunto la sedentarietà e gli stili di vita scorretti dei genitori partendo proprio sulle abitudini di vita scorrette la primo dato è sulla colazione l'8% dei bambini intervistati in prima alimentare non fa la colazione ben un terzo se la fa la fa non adeguata ad esempio bambini che bevono un sorso di succo di frutta un sorso di tè quella non è una colazione ben la metà dei bambini ha una merenda scolastica troppo ricca ricordiamo che se abbiamo un bambino di 7 8 10 anni ha un fabbisogno che si aggira intorno alle 1500 calorie la merenda a scuola quella dell'intervallo non deve coprire più del 10 15% del monte calorico giornaliero quindi le calorie della merenda devono stare tra le 100 e le 200 se diamo a nostro figlio una merenda fatta da un panino col salame che ha 300 calorie un trancio di pizza che ne ha 350 una focaccia farcita da 400 calorie stiamo dando un intervallo una merenda troppo ricca quindi sbagliata ovvio se il bambino non ha fatto colazione la mangerà con grande voracità ma arriverà comunque vorace anche al pasto ma Daniela poi per l'organismo del bambino meglio mangiare un po' di più a colazione e meno poi nel momento della merenda mattutina la colazione è importantissima e ci sono proprio anche degli studi che corredono l'importanza della colazione col rendimento scolastico i bambini che partono la mattina senza colazione è normale che dopo un'ora un'ora e mezza vadano in ipoglicemia e quindi anche l'attenzione diminuisce la voglia di stare attenti la capacità di calcolo la capacità proprio di rispondere attentamente alle domande poste dalla maestra quindi la colazione deve essere fatta ovviamente da chi in primis dai genitori quindi noi non possiamo pretendere che il figlio faccia la colazione se noi per primi come genitori non la facciamo perché ricordiamo che noi siamo l'esempio vivente per i nostri bambini quindi dobbiamo portare il buon esempio ma tornando a quel famoso occhio alla salute abbiamo visto che oltre alla colazione l'altro problema era il ricorso scarso a frutta e verdura solo un quarto dei bambini consuma frutta e verdura tre quarti non la mangiano regolarmente ricordiamo l'organizzazione mondiale della salute dice che frutta e verdura devono essere presenti in ogni giorno circa cinque porzioni due frutti al giorno e tre porzioni di verdura sono pochissimi i bambini che riescono a consumare tutta questa frutta e verdura e poi avevi accennato anche al problema delle bevande zuccherate il 40% dei bambini italiani intervistati pranza e cena anziché con l'acqua con bibite gassate come cola aranciata gassosa o addirittura con i succhi di frutta a pranzo si deve bere l'acqua che sia naturale che sia gassata ma non si possono bere alternative all'acqua e questo deve essere chiaro e deve essere un messaggio per tutta la famiglia attenzione che con l'obesità infantile non si scherza non è un problema estetico è un problema medico io lo vedo nei miei studi quando mi arriva un bambino obeso delle volte io guardo esami del sangue dove questi bambini magari in prima media hanno 240 di colesterolo totale 300 di trigliceridi hanno già quadri di dislipidemia conclamata se portano un'ecografia epatica hanno dei fegati con epatosteatosi ovvero dei fegati grassi che potrebbero essere i fegati dei loro nonni dei loro zii ma sono bambini che hanno 10-12 anni abbiamo bambini obesi con puntate di ipertensione arteriosa e anche l'obesità di tipo 2 è presente anche in piccola percentuale grazie a Dio ma nei bambini obesi dove si nota già un'intolleranza glucidica un aumento dell'insulinemia tutti i segni che fanno poi presagire un futuro diabete cerchiamo di intervenire il più precocemente possibile e deve essere un'azione fatta dalla famiglia ma anche dalla scuola dagli insegnanti dagli allenatori di calcio o delle attività sportive tutti devono essere sensibili a questo problema ma attenzione dobbiamo approcciarci a questo problema nel modo giusto mai fare sentire in colpa un bambino obeso al pari di un adulto obeso l'obesità infantile è una malattia e non è una colpa quindi mai dire al bambino mangi troppo fai troppe merende sei ingrassato perché questo è l'approccio peggiore o dire non ti faccio giocare non ti metto in squadra perché sei ingrassato ma cosa stiamo dicendo ma stiamo facendo dei danni e io queste cose purtroppo le sento in anamnesi nei miei studi dobbiamo avere un approccio intelligente cercare di stimolare il bambino e addirittura mai parlare di dieta nell'immaginario collettivo la parola dieta ha un connotato negativo lo vedo io quando mi presento una persona se una donna amica mi dice ma che lavoro fai dico la dietologa uno sguardo dell'orrore oddio la dieta mio dio quale nemica la dieta è qualcosa di bello il termine dieta deriva dal greco significa stile di vita significa avere una vita più sana quindi anche ai bambini non dobbiamo dire ti porto dal dietologo ti devo insegnare a mangiare meglio magari ti porto da uno specialista che ci aiuterà usare sempre il plurale includere tutta la famiglia ad avere uno stile di vita migliore a mangiare meglio a muoverci di più usare le parole giuste insomma e scegliere anche il professionista giusto se mi chiedessi Giulia qual è la dieta più difficile che fa un dietologo io ti rispondo senza ombra di dubbio la dieta di un bambino quindi per me dietologo non è difficile fare la dieta perché ha una pancreatite perché ha una patologia tumorale o impostare una nutrizione artificiale interale o parenterale la cosa più difficile è impostare una giusta alimentazione per un bambino in eccesso ponderale perché diventare proprio in sintonia con lui in empatia lo devi convincere che è una cosa bella che lo aiuterai che non lo farai mai sentire in colpa che non lo sgriderai mai e anche nell'elaborazione della dieta devi proprio arrivare a dei compromessi quindi scegliete sempre dei professionisti seri che abbiano studiato anche proprio dei corsi specifici per l'obesità infantile perché è davvero un argomento molto delicato diete sbagliate sono nocive e soprattutto nelle bambine tra i 10 e i 12 anni possono diete sbagliate favorire lo sviluppo di disturbi del comportamento alimentare come anoressia e bulimia quindi non si deve scherzare su questi argomenti scegliete sempre il professionista più valido e non fate mai sentire il peso della situazione o il senso di colpa ad un bambino in eccesso ponderale quindi la dieta sbagliata a questa età davvero può avere delle conseguenze anche successive importanti importanti pericolose quindi attenzione pensiamo bene parliamo neanche col nostro pediatra di fiducia se portare o meno un bambino dal dietologo e se mai dobbiamo farlo scegliamo un dietologo preparato che sappia affrontare con serenità e con la giusta preparazione professionale questo delicato argomento Daniela vista la complessità e anche l'importanza di questo argomento come già ci avevi detto all'inizio ne parleremo anche settimana prossima ti ringrazio per essere stata con noi e ci vediamo nella prossima puntata castelli dottorissa Francesca psicologa psicoterapeuta ad appiano gentile e lissone l'udito audio roso da sempre diamo ascolto a chi vuol sentire siamo a Lecco Morbegno Sondrio Isolaccia Tirano Bormio e Delebio Lo studio dentistico del dottor da oltre 30 anni cura la salute del vostro sorriso a Lecco e a Civate quando è il momento di farsi sostenere e anche per le tue necessità impreviste hai roll di emozionlus la tranquillità di una risposta immediata 0341 49 71 72 72 72 Grazie a tutti.